Beh, diciamo che l'accoglienza è stata direi quasi trionfale, nel senso che mi hanno fatto una grande festa, sono stati tutti almeno quelli che insomma qui più vicini della parrocchia, tutti molto gentili, molto disponibili, accoglienti, hanno cercato di aiutarmi in tutto, sai perché la prima settimana è passata tutta a dire dove si accende la luce, come si apre sta porta, dove è la chiave per quello, chi suona le campane, ecco, quindi diciamo tutte queste cose pratiche che però insomma sono importanti. Ma l'ambiente mi è sembrato molto, come posso dire, intersante, molto vivo, molto vivace, tenuto a freno da questo coronavirus perché altrimenti e dovevamo fare la sagra della Polenta e dovevamo fare i giochi dei quartieri, dovevamo fare tante cose che non si sono potute fare, però la voglia di fare c'è, per cui adesso facciamo la festa del crocifisso per dare anche un segnale che insomma siamo vivi e che vogliamo continuare per quanto possibile nel rispetto di tutte le regole per carità, però le nostre tradizioni, quindi mi sembra un territorio molto vivo, molto vivace, c'è stato anche una bellissima già incontro con le istituzioni, con il comune, con i carabinieri, insomma tutte un po' le figure, le varie associazioni, la proloco, direi che è un bel territorio con tante potenzialità, non solo potenzialità, anche cose belle che si fanno e cose che si potranno fare. A proposito di coronavirus, come è stato il ritorno a dire la messa con i fedeli proprio qua in chiesa? E come sta ancora approcciando un po' la gente nel ritornare? Beh, adesso la gente, io non posso fare paragoni di quanti ne venivano prima, per cui non so dire se sono di più o di meno, immagino siano di meno, sicuramente i posti sono di meno in chiesa. La gente è tornata, molti sono tornati, molti hanno ancora paura. Quello che manca di più sono le famiglie con i bambini, i ragazzi sono scomparsi. Adesso con la ripresa del catechismo pensiamo come fare, perché se poi tornano tutti alla messa non ci stiamo effettivamente, ci sono dei problemi di spazio, di distanziamenti, quindi bisogna che cerchiamo delle modalità nuove per far tornare i ragazzi alla messa intanto, ma anche per poterli accogliere con tutti i vari protocolli del caso. A proposito di ragazzi, ultimissima cosa, ha fatto un'iniziativa appunto per coinvolgere i più giovani che spesso, catechismo a parte, sono quelli un po' più lontani dalla chiesa. Ma qui c'è una bellissima realtà giovanile per merito di Don Orlando che ha investito molto sui giovani e quindi abbiamo fatto due incontri per conoscerli, cioè non mi avevano mai visto ed anche io loro, quindi ci siamo visti per la prima volta, abbiamo fatto una specie di intervista, una presentazione un po' reciproca. Adesso il 18 ottobre, se tutto va bene, avremo un'altra giornata insieme, tutti insieme, per lanciare il cammino dell'anno. Quindi direi che io vorrei continuare su questa strada tracciata già da Don Orlando appunto del coinvolgimento dei ragazzi, dei giovani, degli adolescenti e dei giovani. Qui c'è anche sul territorio un'altra realtà giovanile che non viene in chiesa, ci sono tanti ragazzi che non vengono in chiesa. Ecco, anche su questi noi vorremmo provare a investire, a tendere una mano, a offrire uno spazio, a proporre delle iniziative perché anche altri ragazzi possano avvicinarsi, diciamo, alla vita di comunità. Non diciamo adesso venire tutti in chiesa tutte le domeniche, però a essere comunque dentro una rete sociale che poi li aiuti a crescere.